il colare poesia d'inverno questo è il primo incontro e oggi lo facciamo con l'autore maurizio soldini ciao maurizio benvenuto ciao mattia buonasera a tutti un caro saluto bene innanzitutto ti devo dire ma che bella libreria alle spalle te la invidio che è molto 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 bella e ringrazio ecco questo incontro in questo momento è quello che voglio che arrivi un po no la circolarità della poesia che un po quello che io vado dicendo e lo faccio un po attraverso gli autori ecco a te chiedo come è arrivata la poesia da maurizio la poesia è arrivata abbastanza presto da me ricordo era una un pomeriggio d'estate eravamo nel 1976 o giù di lì per cui avevo 16 17 anni ero un liceale se non erro al penultimo anno del liceo e niente siccome leggevo molto in quel momento poi era particolare perché il penultimo anno ci avvicinavamo alla maggiorità per cui si studiava e si studiava molto anche perché in verità devo dire che i miei studi sono stati soprattutto abbondanti durante i due anni di ginnasi o i tre di liceo e dico sempre che ho studiato molto di più al liceo alle scuole superiori che non all'università forse anche per il fatto che la preparazione avuta dai professori del liceo mi hanno consentito di affrontare gli studi universitari con una leggerezza che magari non avrei avuto se avessi avuto una preparazione non ottimale così come era stata me era stata fornita allora ritornando al discorso quando arriva la poesia arriva in quel pomeriggio estivo un luglio in cui appunto mi ritrovo lì con un foglio bianco davanti e con una penna perché allora ovviamente non c'erano gli iphone non c'erano gli ipad cosa che invece in questo momento uso molto anzi non so se sia un bene o un male o abbandonato la penna anche perché con la scrittura digitale riesco a capire meglio quello che è quella che è la misura il metro dei versi e pertanto mi aiuta moltissimo al di là delle flatto voci voci che mi dice nell'orecchio se sono novenari se sono settenari o se sono indecasillabi che è il mio verso preferito verso preferito sin da quando ho iniziato a scrivere praticamente perché perché poi mi sono reso conto che è vero quello che si trova scritto per lo più sui libri soprattutto sui libri di metrica l'indecasillabo praticamente corrisponde all'esperium cioè noi inspiriamo e poi nel momento in cui espiriamo l'esperium ha la durata esatta dell'indecasillabo per cui arrivò salto un po' di palo in frasca però anche per arrivò la poesia in quella età in quell'età in cui io ero piuttosto infatuato soprattutto della poesia di Eugenio Montale Eugenio Montale che non mi ha mai abbandonato e che che se ne dica poiché da parte di molti soprattutto oggi Montale viene visto come un poeta che andrebbe superato per tanti versi ma non scendono in particolari a discapito di altri poeti che invece dovrebbero essere visti con maggiore attenzione da allora in poi per me Montale è sempre stato il il faro diciamo così per una serie di motivi non so se usciranno fuori magari vedremo ecco tu hai scritto questo libro che il sodalizio con gli specchi un titolo molto particolare ecco da questo libro vuoi leggerci qualcosa quale poesia vuoi lasciare a circolare poesia guarda io ho sempre pensato una cosa che si possono scrivere diversi libri ma il quello che scrive un autore è un solo libro un solo libro che poi magari va a trovare una collocazione in diversi libri tant'è che il sodalizio con gli specchi si colloca dopo lo spolverio delle meccaniche terrestri in mezzo come secondo step in attesa del terzo step che addirittura è nato prima del secondo step e avrà come titolo molto probabilmente titolo attualmente provvisorio nativitas in questa nudità del tempo che chiuderà il trittico e già questo fa trasparire come io intenda i libri di poesia innanzitutto ritengo che un libro di poesia debba essere inteso come un superamento della plaquette della raccolta il libro deve avere un filo rosso che conduca dall'inizio alla fine e come dicevo poc'anzi questo filo rosso a mio avviso deve superare in un oltre il libro per andare al libro successivo in attesa dell'altro libro il sodalizio con gli specchi è un libro che possiamo anche definire un libro d'occasione perché d'occasione perché non era assolutamente previsto e nasce origina dal la pandemia dai vissuti della pandemia laddove abbiamo avuto modo di poter recepire percezioni e stati d'animo e così via che mi hanno indotto a scrivere delle parole dei versi che appunto avessero un legame con il titolo che in qualche modo ci porta a dire come ci sia una necessità di solidarizzare e nell'occasione del reclutamento tra virgolette mi sia consentito il termine a cui ci ha costretti il lockdown noi abbiamo cercato penso tutti abbiamo cercato di ritrovare noi stessi e chi meglio dello specchio poteva rimandarci l'immagine di quello che rifletteva riportandoci soprattutto alla mente il fatto che noi in qualche modo dovremmo essere amici con gli specchi proprio nella misura in cui anche noi abbiamo la capacità a differenza di tutti gli altri animali perché io non voglio mai che si dimentichi come noi siamo anche degli animali il fatto che noi ci distinguiamo da tutti gli altri animali per il fatto che possiamo riflettere e riflettere non è altro che uscire fuori da noi stessi guardarci qualcuno dice dall'alto io non so se dall'alto dal basso di lato di fianco di sotto in qualche modo però possiamo guardare noi stessi possiamo guardare gli altri ci possiamo mettere in relazione con le persone che ci sono intorno e di lì emerge un qualcosa un qualcosa che noi cogliamo e che io ho colto e ho cercato di mettere in una struttura di libro attraverso dei versi bene andiamo a leggere questi versi dicevo questo infatti avevo perso un poco il filo come dicevo un libro di poesia che non sia una raccolta a inizio e una fine per quanto ci sia un oltre come dicevo pertanto mi è molto difficile poter scegliere dei versi e allora se tu me lo consenti io leggerei il primo testo l'ultimo testo e fra mezzo metterei un testo pescato quasi a caso che non è altro che la notazione di una riflessione su un tempo passato perché anche questo ci ha consentito la pandemia di riflettere su quello che siamo stati in qualche modo da dove veniamo intellettualmente effettivamente parlando e pertanto vorrei leggerti quel quel testo a metà mi tolgo gli occhiali perché da mio pe il sodalizio con gli specchi nella notte quando scompare ogni riflesso e le immagini s'annullano nel temporale si tempra col fiato del limite spaziale basta che saliti perché risuoni la distanza seppi il perché seppi il perché ma non il dove nelle sfuriate contro il dubbio nell'aria mattutina e nel silenzio sordo come le campane quando la luce sfavillava poco a poco tra la nebbia nella distanza dal crepuscolo e da una notte breve e insonne i passi non seguivano percorsi strade vicoli intemperie segnaletiche tutto si presentava come un tuono col dirompente applauso in falsetto era nell'attimo il soprassalto delle ali con il fruscio di foglie risvegliate la radio libera le sue canzoni il gracchio le mutazioni di un'età senza peccato e vado a concludere con il breve testo che finisce il libro madre perla ostenta il languido seno la costa appena lambita dal chiarore il nudo di dicembre svelato dal vento il senso della neve abbraccia il mare eccoci qua eccoci qua io ringrazio Maurizio soldini per aver accettato questo invito per aver portato la sua voce all'interno di circolare poesia quindi ti ringrazio Maurizio grazie a te Mattia e tanti tante buone cose e grazie soprattutto per il tuo impegno nel far circolare la poesia perché di poesia ne abbiamo veramente bisogno perché perché scusami questa questo orpello per certi versi vengo doveroso perché abbiamo bisogno della poesia abbiamo bisogno della poesia e te lo dico anche in qualche modo da scienziato che alla fine ha prodato ha prodato sono partito dalla poesia come vi dicevo poi diversi percorsi abbiamo necessità non tanto del significato ma del senso abbiamo bisogno per dirlo alla tedesca del sin e non del bedoitung e pertanto chi ci può aiutare più della poesia a trovare un senso grazie mille Mattia ciao grazie mille Mattia